Federpharma Catanzaro ha iniziato a distribuire da questa mattina le mascherine ai titolari delle farmacie associate, non affinché vengano destinate al personale in servizio. Il modello è mascherina chirurgica in microfibra medicale Vectron 8200, certificate con MS facciale e filtrante protettivo. La distribuzione, come spiega Federpharma Provinciale in una PEC già inviata, vuole essere un piccolo segno di attenzione per la sicurezza delle farmacie, che continua ad assicurare alla collettività instancabile impegno e straordinario servizio. In tutta Italia, così come in Europa e nel mondo, commenta in particolare il presidente di Federpharma Catanzaro, Vincenzo De Filippo, ogni giorno le farmacie si distinguono per l'aiuto che assicurano alle comunità e al Paese. L'approvvigionamento non è stato facile, visto il momento difficile, ma la sicurezza di tutti gli associati e dei collaboratori di tutte le farmacie della provincia è il pensiero principale del sindacato. La fornitura arriverà direttamente alle farmacie grazie all'azienda di Rita De Biase, che si è resa disponibile ad assicurare la distribuzione diretta.